Ragazzi non ho parole, la tv tedesca, più lobotomizzati degli italiani. Siccome la grafica del rosso non bastava, hanno messo anche le fiamme dantesche per dare una parvenza ancora più di calore. Da notare le temperature miti, 26 gradi, cioè non è che stiamo a 21 gradi, 18 gradi addirittura. No, però per i tedeschi sapete... Girone dantesco, il girone dantesco. Io non ho parole, non so voi, ditemi uno che vede questo e non dice ma questi sono fuori, vuol dire che l'ho botomizzato o no?